Gentili telespettatori, buona giornata. Crimi, io quando dico Crimi viene sempre in mente l'incantevole Crimi, un cartone animato degli anni Ottanta, però poi guardando Crimi non credo che sia l'incantevole Crimi. Dice, non so se resterò nel Movimento 5 Stelle, facendo intendere che andrà probabilmente con, non probabilmente, andrà in un partito di conte quando nascerò. Non so se resterò, non concordo con Grillo, ha impedito la discussione. E Crimi ricorda anche che il voto non potrà avvenire sulla piattaforma Rousseau, poiché questa è inibita al trattamento dei dati degli iscritti. Inoltre, consentire ciò violerebbe quanto disposto dal garante della privacy. Ma gli risponde Grillo dicendo, guarda che si deve votare su Rousseau, perché c'è scritto nello statuto e lo statuto è ancora in vigore. Pertanto si deve votare sulla piattaforma Rousseau. E Grillo dice a Crimi, se tu farai qualcosa di diverso, ne dovrai poi rispondere, ne dovrai rispondere nelle dovute sedi. Perché lo statuto è ancora in vigore, non c'è un nuovo statuto. E Grillo fa capire, io sono il presidente, il fondatore e il proprietario del marchio del partito. Questa è, in poche, pochissime parole, la posizione di Grillo. E lui, Crimi, è pronto a lasciare il Movimento 5 Stelle. Ma lo lascia per andare dove? Sta aspettando prima che Conte dica, ho un mio partito, e Crimi in due secondi dice, io sono di là. Anche perché per Conte accettare tutti i senatori del mondo non c'è nessun problema, perché in questo momento, se Conte accetta senatori, deputati del Movimento 5 Stelle, non cambia niente, nel senso che sono già pagati dallo Stato, pertanto se passano con lui, formano un gruppo parlamentare e Conte con il suo partito è già attivo in Parlamento perché può influenzare le varie decisioni del governo, può alzare la voce e così molti grillini passeranno con Conte. E attenzione, andando con Conte dovranno pagare il partito di Conte. Cosa vuol dire? Che tutti i deputati, i 945 deputati e senatori del Parlamento pagano il proprio partito perché i partiti non hanno il finanziamento pubblico per sostenere le sedi e tutta l'attività del partito. Dal loro stipendio i parlamentari italiani danno, secondo il partito, chi 900, chi 500 euro, chi 1.500, chi 2.000, chi 3.000 euro al mese dal proprio stipendio. Anche nel partito nuovo di Conte i deputati e senatori che andranno con lui dovranno dare qualcosa come minimo 1.000 euro al mese. E questo servirà anche per un eventuale stipendio di Conte perché per due anni farà il capo politico senza stipendio. E come paga l'affitto? Qualcuno dice, beh, ma la fidanzata è danarosa, ci penserà alla famiglia della fidanzata, ma insomma non si può, non credo che Conte si appoggi alla famiglia della fidanzata. Ecco, un uomo di una certa età, di una certa notorietà che si fa, eh no, dovrà comunque aver, non so, pagato l'affitto e un minimo di stipendio dovrà essere passato dallo stesso partito. E poi, quando nelle prossime elezioni lui diventerà ovviamente un senatore e poi anche capo politico del suo partito, avrà lo stipendio statale. Anche perché Conte ha chiuso definitivamente, sembrerebbe, con l'università dicendo basta l'insegnamento, mi dedico esclusivamente alla politica. Intanto, come dicevamo, Crimi dice Beppe Grillo ha indetto la votazione del comitato direttivo impedendo una discussione e una valutazione della proposta di riorganizzazione e di rilancio del Movimento alla quale Conte ha lavorato negli ultimi mesi, su richiesta dello stesso Beppe, ha scritto su Facebook, pur rientrando tra le sue facoltà in dire la votazione, non concordo con la sua decisione. Il voto tuttavia non potrà avvenire sulla piattaforma Rosso poiché questa è inibita al trattamento dei dati degli iscritti al Movimento. Inoltre, consentire ciò violerebbe quanto disposto dal garante della privacy. E questo diceva Crimi Dopo le richieste dell'ex premier di lunedì 29 giugno su come poter rilanciare il Movimento stanno spaccando adesso il Movimento tra chi respinge e chi accetta la presa di posizione del fondatore. Conte stamane ha parlato di svolta autarchica e di mortificazione per un'intera comunità. E ora i Crimi a rimettere in gioco il proprio ruolo e la permanenza nei 5 Stelle. Gli avvenimenti di questi giorni, in particolare delle ultime ore, mi inducono a una profonda riflessione sul mio ruolo nel comitato di garanzia e sulla mia permanenza nel Movimento. Manterrò le mie funzioni per il tempo utile a consentire gli adempimenti necessari allo svolgimento delle prossime consultazioni. Ha aggiunto. Pertanto sta facendo capire che alla fine lui rimarrà nel Movimento giusto il tempo di capire Conte quando crea il suo. Ecco, diciamo per non rimanere propriamente scoperto e non dover finire nel gruppo misto oppure chissà che che Conte decida di tornare a fare il professore. Però ormai dopo che Crimi si è esposto e si è scontrato con il proprietario del Movimento 5 Stelle lui nel Movimento non ha più un futuro cioè è finita è finita nel Movimento 5 Stelle pertanto l'unica soluzione che lui ha è sperare che Giuseppe Conte apra un suo partito come si evince è molto ma molto probabile che succeda è questo. Pertanto vedremo quello che succederà naturalmente la politica italiana è incredibile ogni giorno se ne sentono di tutti i colori a volte ci sono poche notizie ma a volte bisogna scegliere tra tante notizie interessanti. Io vi ringrazio per avermi ascoltato vi auguro buon proseguimento di giornata ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti su questo canale vi ricordo che poi siamo anche su Tele Italia Seconda Rete e anche poi su Facebook nella pagina Tele Italia e nella community poi ci sono anche dei sondaggi ai quali poter partecipare e commentare. Grazie nuovamente a tutti e buon proseguimento di giornata di pomeriggio di serata ovunque voi siate in giro per il mondo o in giro per l'Italia. Grazie a tutti a presto Grazie a tutti